un cordiale saluto buongiorno e benvenuti alla resegna stampa del giorno eccoci qua in diretta come sempre sono le 7 del mattino e questa è Fano TV che comincia come di consueto con la lettura dei giornali o meglio il commento alla stampa del giorno con gli articoli che abbiamo già selezionato per voi sono pronti sul nostro touch screen prima però andiamo a vedere il santo, il tempo e poi l'ultima ora della notte oggi la beata Diana degli Andalò il sole è sorto alle 5.26 tramotterà alle 20.54 Sì avrei dovuto farvi vedere il tempo però chiedo scusa Riccardo andiamo sulla su questa pagina su questa pagina del di reporter di strada il nostro sito la nostra pagina il nostro gruppo scusate il nostro gruppo di redazione dove ci sono 8.173 membri è un gruppo chiuso quindi dovete chiederci l'autorizzazione ma nulla di che insomma solo per avere un filtro più accurato essendo segnalazioni e per evitare che si iscrivano da fuori regione o da fuori zona Allora andiamo a vedere dicevo l'ultima ora della notte perché c'è stato questo incidente l'altra sera Trafano e Pesaro andiamo a vedere anche le fotografie purtroppo non so dirvi molto nel senso che la redazione sta lavorando per cercare di avere le informazioni Siamo Trafano e Pesaro come dicevo questi sono i nostri reporter che ci hanno inviato queste immagini sono immagini anche molto molto forti come vedete sono si tratta di un incidente coinvolte almeno due o tre automobili da quello che capisco ce ne sono tre Se riesco anche ecco a farvi vedere questa è una poi ce n'è un'altra qua nel fosso e ce n'è un'altra che è rimasta nella carreggiata tra l'altro ne vedevo una anche capottata Questo per dirvi insomma adesso non so esattamente la gravità mi scuso per questo ma non siamo riusciti ecco vedete c'è questa auto capottata ed è quella che vi avevo già indicato sul fosso ripeto Trafano e Pesaro ieri poco prima di mezzanotte insomma Questa è un po' la questa è la ecco sono altre fotografie i pompieri i vigili del fuoco che sono intervenuti questa è un'altra immagine del luogo dello schianto Qui siamo ripeto l'altra sera insomma la scorsa notte vi daremo tutte le informazioni nel corso di questa giornata sul nostro sito internet Tocchiolanotizia.it tra poco vi daremo tutti gli aggiornamenti Allora abbiamo bisogno del previsione del tempo facciamole direttamente con il nostro Marco da Bagnalda Buongiorno Marco buongiorno e soprattutto Buongiorno Guarda che bello anche oggi questo sole che ti sta illuminando le spalle ma sta facendo guarda che immagine stupenda questo sole che si riflette sull'acqua Tu sei però attenzione non l'avevo visto sei in alto dove sei? Sul terrasso di casa Ah ecco quindi case bottega come si dice Esatto esatto controllo non ho bisogno di guardiano faccio tutto quanto da qua Controlli la spiaggia H24 insomma Esatto esatto Va bene come sarà il tempo oggi Marco Oggi è molto bello Finalmente è arrivata l'estate anche ieri pomeriggio dopo una giornata di vento è uscito fuori sto bel sole Sti 25-27 gradi E sarà così anche il fine settimana Anzi il fine settimana proprio sembra che sono di 30 gradi Finalmente Quindi già un bel assaggio d'estate ma avete già aperto gli ombrelloni quindi per oggi vi siete preparati quindi Sì 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 di notte li lasciamo aperti quando sappiamo che il tempo è buono evitiamo il lavoro ai bagnini Ah quindi tenete aperti ho capito tenete aperti benissimo Allora grazie Marco il papagallo sta bene Benissimo in forma sbagliante In forma sbagliante Bene ci vediamo domani allora grazie e buon lavoro Allora andiamo adesso sui giornali cominciamo dal carino di Pesaro Intanto la fotonotizia riguarda Valentino Rossi anche oggi Ieri il giornale aveva ipotizzato che forse Valentino stava pensando un suo ritiro alla fine del mese di giugno Ma risponde oggi mamma Stefania dice lui non lascia le cose a metà Quindi non si ritira Feste invece e alcol in spiaggia Più controlli i bagnini lanciano l'allarme per i bivacchi notturni E l'altro ieri è intervenuta la polizia sul lungomare di Levante Da Monte Cerignone al mondo Addio ad Alberto Pascucci Il re del caffè aveva 88 anni E' morto anche Franco Mancuso 30 anni con la Scavolini il basket in lutto Picchiato perché omosessuale Entra a giudizio anche l'Arcigay chiede i danni E poi sotto tutti in fila all'arena per il maxi concorso In migliaia nonostante le molte defezioni Robinson sì o no decisione entro lunedì scade l'opzione di rinnovo Il Corriere Adriatico edizione pesarese Interramento statale si fa E questa è una notizia che andremo ad approfondire ovviamente tra poco Stiamo parlando dell'interramento della statale 16 a Pesaro Quindi un'operazione gigante Ma comunque pare che volendo si possa fare I primi risultati infatti dei rilievi e con i sopralluoghi Parlano di un intervento complesso ma che appunto si può fare La storica operazione potrebbe rivoluzionare la viabilità tra il centro storico e la zona del mare A centropagini invece rifiuti illegali stoccati nel Pesarese Oltre 10.000 le tonnellate di scarti tessili In coda invece sulla 14 incubo cantieri Tutte le stati praticamente è la stessa storia A Roma il tavolo per trovare una soluzione Dunque turarsi il naso scrive Andrea Taffi E convivere in A14 con 4 km di coda Prima e dopo il tratto pedaso grottamare per altri 20 giorni Oppure accettare la proposta di Autostrade per l'Italia Di sgomberare i cantieri dalle gallerie durante il weekend Ma avere i lavori fino a metà di luglio Insomma cosa decidere? Decisione oggi a Roma Difficile scegliere quale sia l'incubo peggiore Ancora dalla prima pagina del Corriere A San Lorenzo in campo Omicidio Grilli in appello Ribadite tutte le condanne Anche qui addio a Pascucci Il signore del caffè è diventato un brand Un marchio Controlli post coprifuoco Regole e sanzioni certe Gli operatori hanno incontrato il comune Punire solo chi sgarra E non tutta la categoria Poi un protocollo con la finanza Contro i furbetti e contro gli evasori Un protocollo firmato in comune a Fano Allora ripartiamo Visto che l'orario è quello del caffè Ripartiamo da questa notizia Che riguarda appunto Pascucci Addio a Pascucci, signore del caffè Ha messo il mondo in una tazzina L'imprenditore è morto a San Salvatore Ha 88 anni Paolini lo ricorda come un innovatore Chiarabini Un modello dall'azienda di famiglia A un brand senza confini Restando fedele alla sua Monte Cerignone La famiglia ringrazia il reparto Tra l'altro di cardiologia Del San Salvatore di Pesero L'addio verrà dato al santuario Del beato Domenico Spadafora Alle ore 16 Anche il resto del Carlino Addio a Pascucci Il gran signore del caffè Monte Cerignone in lutto Per la morte dell'imprenditore Che aveva 88 anni Con lui l'azienda fondata nell'ottocento È diventata internazionale Chiarabini dice Era una figura di riferimento Qui ha mantenuto le sue radici Il presidente della provincia Paolini piangola Scomparsa di un grande uomo Un vero innovatore Qui sotto Sempre sulla pagina di Pesero Del Carlino Invece La cronaca Che riguarda La giudiziaria Praticamente Riguarda un processo Un processo Che a cui È finito Un carabiniere Approfittava del fatto Di essere un carabiniere Non solo per avere Delle prestazioni gratis Da alcune prostitute Riminesi Ma si offriva In qualche caso E c'era riuscito Anche di fare Da mediatore Tra le ragazze E i clienti E ci si metteva in mezzo Anche lui Come protagonista Poi delle performance Erotiche Diciamo che pubblicizzava Poi sul web Una storia Che potrete Ripercorrere Con questo articolo Che riguarda I fatti Accaduti Tra maggio 2012 Aprile 2014 Che si sono consumati Sia a Rimini Che nella zona di Urbino Dove il carabiniere Era appunto In servizio Confermati Il doppio Ergastolo E le due condanne A 16 anni Parliamo dell'omicidio Grilli La corte D'assise d'appello Ribadisce le pene Di primo grado Per i quattro Imputati Dunque Confermate In appello Le condanne Il caso riguarda Sesto Grilli 74 anni Di San Lorenzo In campo Trovato morto In casa Legato Con un cuscino Sul volto Il 17 marzo Del 2019 Anche il resto Del carlino Delitto Grilli L'appello Conferma Due ergastoli Ribadita Senza sconti Anche la pena Di 16 anni Di reclusione Per Nino De Luca E Massimiliano Cagliazza Complici Della iniziale rapina Gli assassini Inrompono Questo è quello Che hanno ricostruito Inquirenti Insomma Inrompono Nella notte Dal 17 marzo Del 17 marzo 2019 A casa del pensionato Alla ricerca di soldi Lui però Non parlerà Non dirà nulla Si è arrivati I responsabili Grazie al telefono Che ha permesso Di identificare Chi fosse Chi fosse In quella In quella casa Poi Valanghe di firme Contro il parcheggio A pagamento a Fano Lettera al sindaco Massimo Seri Per rivendicare Posteggi liberi Insomma Una lunga battaglia Le famiglie Dopo un lungo periodo Di limitazione Sperano Nel sollievo Di passare giornate In spiaggia Senza ulteriori costi E aggiungerei io Anche ulteriori pensieri Pallacanestro in lutto Morto Franco Mancuso Per 30 anni Nella società Aveva Vissuto Tutta l'epopea Della VL Dal basket Pane e cipolla Fino agli scudetti Domani I funerali A Sant'Agostino Ario Costa Dice Una persona Che ha fatto parte Della storia Della VL Ho una grande Tristezza Questo era Questo è L'articolo Che riguarda appunto Questo Questo lutto Trovato Invece Andiamo sulla pagina 25 del Corriere Da Colli al Metauro Nel Pesarese Trovato privo di vita In bagno A certamente Dei Carabinieri La vittima è un artigiano Edile di Borgaccio L'allarme è lanciato Da un conoscente Era ormai senza vita Da diverse ore Quando un 53enne Di Borgaccio Di Colli al Metauro È stato ritrovato Disteso a terra Nel bagno Della sua abitazione Un conoscente Lo stava cercando Da diverse ore E quella prolungata Mancanza Di risposte L'aveva preoccupato A tal punto Da spingerlo A chiedere L'intervento Delle forze Dell'ordine Intorno alle 16.15 Una patrulla di Carabinieri Poi entrata Insomma E ha trovato Questo corpo Senza vita Probabilmente Verrà disposta All'autopsia Per accertare Le cause Del malore fatale Siamo a Fossombrone Invece In Curia Per manutenzione Di verde E Caditoi E l'associazione Amo Fossombrone Protesta per la via Verso Piancerreto Andiamo sulla pagina 3 Invece Del Carlino Perché Perché Si parla di feste notturne A Pesaro Feste notturne Alcol Che scorrono a fiumi In spiaggia Arriva la polizia E bagnini Chiedono più controlli Prime segnalazioni Di serate Oltre le righe In due stabilimenti balneari Alla lista degli agenti I ragazzi Ovviamente Si sono subito Dileguati Sono fuggiti Michele Cruciani Della beach Della beach Dice Ballavano sui tavoli Addirittura Danni ai lettini Stefano Tombari Dei bagni di Gilberto Siamo preoccupati Siamo preoccupati Un po' tutti Per questa Escalation Di schizofrenia Di pazzia Che sta Prendendo Questi giovani Che evidentemente Hanno ancora Tanto Di represso Da sfogare Patente ritirata Trucco per riaverla Ex direttore Condannato a sei mesi Siamo sul Corriere di Urbino Guida in stato di ebrezza Per vincere il ricorso Agli esami del sangue Per vincere Aveva fatto ricorso Agli esami del sangue Fatti fare al figlio È una storia un po' Complicata Che comunque Spiega bene Eugenio Gulini Questa mattina sul giornale Così come fa Nicola Petricca Sul resto del Carlino Patente 13 del Corriere Adriatico Si parla questa mattina Di rifiuti Smaltiti illegalmente Stoccati anche Nel Pesarese Si parla di oltre 10.000 tonnellate Mica poco Di scarti tessili Sei arresti 34 indagati Dalla DIA di Firenze Tra le mete dei mezzi Anche alcuni capannoni Dismessi tra Fermignano E Acqualagna A Fano invece La stagione Non ingrana Poche le prenotazioni Tantissime telefonate Anche le email Ma c'è chi chiede informazioni Ma le conferme Ancora non arrivano Insomma La gente si informa Ma si ferma lì Intanto cresce L'attesa Sotto invece Si parla di un patto Tra Comune Guardia di Finanza Per stanare i furbetti Siglato ieri mattina Nella Sala della Concordia Del Palazzo Comunale Un protocollo Di intesa Contributi e tasse La finanza adesso Va a caccia di furbetti Protocollo di intesa Fermato con il Comune Contro l'evasione E per la verifica Dei requisiti Le risorse recuperate Da 4 a 6 milioni Ogni anno Necessarie Per far fronte Ai nuovi impegni E poi La statua Che vedete In questa piccola fotografia Pubblicata sulla pagina Di Fano del Corriere Adriatico Questa statua Si chiama La tempesta E ricorda Ciò che avvenne 57 anni fa Ovvero Una tempesta Che purtroppo Uccise 4 persone Video di Mimmo Ermini Ricorda la tragedia in mare Dell'8 giugno Del 1964 Anche oggi Il tema Del biodigestore Trova spazio Sulle colonne Del Corriere Adriatico Fano Chiama Pesero L'alternativa È un impianto proprio Nuovo tentativo Di collaborazione Del sindaco Commissione di garanzia Convocata Il 24 Ancora da Fano Tre giorni di accesso Vietato alla passeggiata Dell'Arzilla Per i lavori Da martedì a giovedì Prossimi Stabilimenti locali Raggiungibili Solo dalla battigia L'assessore Brunori Concorda Gli step Con i rappresentanti Degli operatori Economici Dunque Si è cercato In qualche modo Di evitare Il più possibile Come dire Gli intoppi Disagi Che inevitabilmente Quando ci sono i lavori Succedono E accadono Carnevale estivo Invece Un programma scarno Per Alfredo Pacassoni Che segnala L'inadeguato Confronto con il passato Appello alle scuole Per i ragazzi Allora Andiamo adesso a Pesaro Torniamo a Pesaro Per parlare Di questo progetto Un po' faraonico Ma che dicono Si possa fare Ovvero L'interramento Addirittura Della Statale 16 Ecco Andiamo a vedere Qualche fotografia Così ci rendiamo Un po' meglio conto Di che cosa Stiamo parlando È un'operazione Che davvero Come scrive il giornale Rivoluzionerebbe La viabilità Tra il centro storico Di Pesaro E la zona del mare Si tratta di Far passare La strada Sottoterra Praticamente Ok Non più quindi Come la vediamo In questo momento Ma sotto Sotto I primi sopralluoghi Dicono che Insomma È complesso Cioè non è una passeggiata Come si direbbe Ma si può fare E quindi Dal sogno Alla realtà Che potrebbe essere Appunto Breve Come passo Per interrare Un tratto di Statale E rivoluzionare Tutto questo collegamento Viario Fra centro e mare L'annuncio Lo ha dato Il sindaco Ricci Sulla radicale Trasformazione Del tratto di Statale E Insomma Vedremo Se è una cosa Che è fattibile Oppure no Ma insomma È un po' come L'arretramento Adesso no Questa è una cosa Un po' più grossa L'arretramento Della ferrovia Che sarebbe Utile Per liberare Spazio Eccetera Spostare La linea ferroviare Da dove si trova In questo momento E portarla Da un'altra parte Oppure Visto che ci siamo In tema di sogni Si potrebbe anche Far passare sotto il mare Con una bella Cabina Un bel tunnel Di vetro Sotto il mare Sarebbe una cosa Strepitosa Ma siamo nel Abbiamo aperto L'album dei sogni Invece Stando con i piedi Per terra Io qui Adesso spero Di essere Di stare tranquillo Perché quando leggo Questi articoli Al mattino Poi mi parte Mi si chiude la vena Come si dice Ma andiamo a leggere A commentare Un attimo Sempre cercando Di darvi degli spunti Parliamo di covid Parliamo di vaccini In particolare Ribadisco Non sono un novax Però Andiamo a leggere Un po' di cose Discoteche E ferie Solo con il green pass Allora Qui si parla di green pass Poi parleremo Di dei vaccini Meloni Giorgia Meloni Sulle barricate E dice No ai ricatti Il documento digitale Valido da luglio Consentirà l'accesso Ai mezzi Covid free Ai locali E anche alle feste La leader di Fratelli d'Italia Dice Non permetteremo Che si neghi La libertà Di viaggiare Allora Il green pass Sapete È stato approvato Definitivamente Ieri dal Parlamento Europeo Scrive Elena Polidori Sul Carlino Nazionale Senza però Senza green pass Di libertà Se ne potrà Avere poca Rispetto Alla vita Pre-Covid E questo Ha già acceso Delle polemiche Ora L'unica In questo momento Che sta parlando Un po' fuori dal coro E io mi trovo Assolutamente D'accordo Con Giorgia Meloni Dice lei Non permetteremo Mai Che questo Green pass Nazionale Diventi un metodo Per ricattare I cittadini Quello che vi dicevo Io qualche giorno fa Perché tra le righe Già si capiva Che c'era un po' Del ricatto Sotto Ma comunque Vedete Giorgia Meloni Lo sta dicendo pubblicamente Ci sta mettendo la faccia E devo dire Che sta facendo Un ottimo lavoro Se va avanti così Non solo Avrà anche il mio voto Ma ne avrà Sicuramente tanti Negando Dunque Non permetteremo mai Che il green pass Nazionale Diventi un metodo Per ricattare i cittadini Negando loro La libertà Di viaggiare O di andare Ad un concerto Oppure semplicemente Di cenare Al ristorante Come tutti L'idea Di essere costretti Ad avere Un lascia passare Attenzione alle parole Perché per qualcuno Che magari Non conosce la storia Lascia passare Può essere una parola Buttata lì Come tante No? Al posto di passaporto Eccetera Ma il lascia passare Per chi conosce la storia E non c'è bisogno Che adesso ne parliamo qua C'ha un significato Allora l'idea L'idea di essere costretti Ad avere un lascia passare Per partecipare Alla vita sociale È Raggelante Dice Giorgio Meloni Letteralmente Incompatibile Con gli standard Di una nazione libera Ora La domanda è Siamo davvero Ancora una nazione libera? Lo diciamo da sempre Questo strumento Non può E non deve Rientrare Nella normalità Delle cose Capito? Non può rientrare Perché ci stanno facendo passare Questa storia Del Green Pass Che sta piacendo Sta facendo diventare Matti tutti quanti La normalità Delle cose In realtà Io per spostarmi Non dovrei avere bisogno Proprio di nulla A meno che Vabbè Certo Un passaporto Così come l'abbiamo conosciuto Ma niente di più Niente di meno Ma comunque Questa è un po' la storia Mentre sul fronte Aspetta Forse No Dovevo ricollegare Un altro discorso Ecco Ecco L'altra notizia Che invece volevo Sempre su questa pagina Dove c'è Giorno Meloni Che dice questo Ecco Vi segnalo Questo articoletto Piccolo 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 Ma che fa tanto 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 arrabbiare Sentite Qual è il titolo A settembre In classe Con le mascherine Eh vabbè Già Ci rovinate la festa Perché si pensava a settembre Di essere un po' più liberi Ma sentite Figliuolo Lancia l'ipotesi Vaccino Fino a sei anni Quindi siamo già scesi Da dodici A sei Fra un po' Appena nascono Gli mettono una siringhetta Gli fanno il vaccino Così nascono già vaccinati Sul fronte vaccino Vaccini in futuro Non è detto Che si arrivi Ad ulteriore autorizzazione Per arrivare Fino ai sei anni Adesso Ognuno la pensi come vuole Ma io quando leggo Queste notizie Ho la pelle d'ho Che rabbrevidisco Ma comunque Questa era una pagina Ma se voi avete la bontà Di comprare un giornale Di leggervi il giornale In modo serio Anche utilizzando un po' Il vostro ragionamento La vostra esperienza Eccetera eccetera Allora a un certo punto La pagina dopo Cosa leggete Leggete sui vaccini Di qua Figliuolo che voleva Che vorrebbe Fino a sei anni Di qua invece Leggete un po' Leggiamo insieme Open day Allarme AstraZeneca Eh vabbè Il solito Sul banco degli imputati Costa un euro e cinquanta Contro i nove Degli altri Ma comunque Ora il CTS Rivede le fasce di età Benissimo Ma attenzione Il vertice dopo I due casi di trombosi Che si sono verificati Tra i giovani Ok A chi ha più di sessant'anni Adesso no A chi ne ha meno di quaranta Ma insomma Decidetevi Ma decidetevi in che modo Sulla nostra pelle Sulla pelle dei cittadini O meglio Continuate a sperimentare A questo punto Continuate a farli Gli open day In modo tale Che abbiamo più Il fogliettino illustrativo Il famoso bugiardino Almeno sarà un po' più Un po' più serio Un po' più preciso Visto che Stanno facendo Questa sperimentazione Sulle persone Che vanno felici però Allegri A questi open day E questa ragazza Per esempio Questa ragazza Di 18 anni Che era andata Molto contenta Probabilmente Perché aveva già in mente Di andare in vacanza Residente a Sestri Levante Nel Genovese Adesso è ricoverata In rianimazione Al policlinico San Martino di Genova A causa di una trombosi Al seno cavernoso Dopo essersi vaccinata Il 25 maggio Partecipando appunto All'open day Con AstraZeneca La giovane Sottoposta Ad un intervento Di neurochirurgia Resta grave Anche se stabile Nel frattempo Al San Martino È stata ricoverata Anche una seconda Donna Savonese Di 34 anni Parliamo di 34 18 No di 80 90 Anche lei Vaccinata Col siero anglosvedese Il 27 maggio Per lei Si è resa necessaria Una fibro Una fibrinolisi Di alcuni trombi Presenti nella parte venosa Del circo epatico Quindi Come vedete A questo punto Che cosa succede Visto e considerato Insomma Che tutte queste persone Andavano Finivano ricoverate E quant'altro Il comitato tecnico scientifico Per bocca del suo coordinatore Il professor Franco Locatelli In queste ore dice Se ne è uscito fuori Dicendo In queste ore Un'attenzione Suprema Un'attenzione Suprema Per cogliere Tutti i segnali Che possono allertare Su eventuali effetti Collaterali Che portino A considerare Dei cambiamenti Di indicazione Ok Quindi Come vedete Io Ripeto Non sono Un Novax Stiamo discutendo Insieme a voi Su questa cosa Non sono un Novax Però ritengo Che Quando si tratta Di inoculare Cose di cui Non sappiamo Granché Solo che copre Sul vaccino Che copre Diciamo Che evita L'ospedalizzazione Evita In certi casi Anche la morte E questo va bene Quindi questo è un dato di fatto Ma su quello che può succedere Tutti gli effetti Tutti gli effetti collaterali Eccetera Ancora non si sa Assolutamente Nulla di certo Perché lo stiamo Sperimentando adesso Lo stiamo vedendo adesso Allora È davvero il caso Di mettere in ballo La vita di persone Giovani Giovanissime Addirittura A fine o sei anni Gente che non rischia niente Rischio beneficio In questo caso È assolutamente Sproporzionato Ma non abbiamo tempo Per fare questi Questi ragionamenti Io spero solo che Ecco Queste persone Che oggi dicono una cosa Il CTS Che oggi dice una cosa Che domani abbassa l'età Dopodomani la rialza Ma in mezzo ci siamo noi Cioè Siamo noi che Siamo come pedine Spostate Oggi quarantenni Li mettiamo qua Domani li mettiamo di là Ecco Questo per dirvi Ma solo per stimolarvi Io non sto invitando nessuno A non fare il vaccino Tutt'altro Il vaccino va fatto Per chi sente L'esigenza di farlo Si sente in coscienza Di farlo Io non sto Dicendo questo Solo dicendo Quella cosa che non capisco È come si possa Però andare Così Spavaldi Allegri Senza un minimo Di ragionamento Ecco Il ragionamento che manca Da parte delle persone Poi chiaramente adesso Gli insulti Finita la rassegna Come sempre Arriveranno in abbondanza Ma io ho la fortuna Grazie a Dio Di poter dire Quello che voglio Grandi eventi Si rafforzano i controlli Il sindaco prepara L'ordinanza Antivandali Il prefetto Attenzione Anche all'area Del lungomare La spiaggia è vietata A Senigallia Dopo la mezzanotte Con un'ordinanza Antivandali Quella che probabilmente Arriverà anche a Pesero Se si andrà avanti Di questo passo Ma che firma Che firmerà appunto Il sindaco Di Senigallia Perché la situazione Anche lì È un po' Fuori controllo Olivetti dice Non sappiamo Come sarà Quest'estate Da parte mia Da parte mia C'è però Preoccupazione Valentino Nessun ritiro Dice la mamma Non è uno che lascia Le sue cose a metà Stefania Allontana Le voci di abbandono Arrivate dalla Spagna Andate a vedere Quanti giri ha fatto Dopo Barcellona La faccia Di chi Vuole mollare E dunque Mamma Mamma Valentino Di Valentino Rosso Insomma Rassicura Tutti i suoi Tifosi È tutto Per la nostra Rassegna stampa Riccardo Mi giro di qua Così facciamo vedere Anche questo Scorcio Della città di Fano Straordinario Guardate che bella E questa è la sigla finale Della nostra Rassegna stampa Noi ci vediamo domani Arrivederci